Il punto sulle azioni riguardanti le pari opportunità della provincia e sull'attività della consigliera di parità. Questi i temi affrontati nel corso dell'incontro svoltosi nei giorni scorsi a Borgomanero fra il consigliere provinciale delegato Anna Clara Iodice e la consigliera di parità Alessandra Orrico e i rappresentanti dell'amministrazione comunale. L'incontro è servito per illustrare quanto l'ente e gli organismi come la Commissione Provinciale hanno fatto e intendono fare... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.